Ecco un'altra soluzione adesso, tutte palle da sfruttare, tutti i palloni da sfruttare, vedete Tiam prima controlla, poi Cuffa, intervento giudicato falloso, ancora una volta Vammarella, chiamati a raccolta tutti i saltatori rossoneri, 23 minuti e 35 secondi e che sia la volta buona nel cuore del secondo tempo. Ecco, sarebbe bello vincere anche senza brillare, lanciare in fin dei conti, lo avrebbe anche meritato il pallone in mezzo, vediamo, Amenta e poi vediamo Tiam, gol, Mame, Tiam ed è gol e adesso sotto la curva sud, pallotta rossonera, avanti, ecco qui, sotto la curva sud il lanciano che passa in vantaggio con Mamigno, Altra soluzione su palla, inattiva, avanti Virtus!